Ho il piacere di invitarvi a un grande evento per la meccanica. MEC in Italy, la sfida tecnologica italiana. Il benchmarking che fa bene al paese. Organizzato in occasione dell'Assemblea Anima, la federazione della meccanica varia di Confindustria. Interverranno Marco Fortis, Vicepresidente Fondazione Edison, Guido Bortoni, Presidente dell'autorità di energia elettrica e gas, oltre a Giorgio Squinzi, Presidente di Confindustria. Vi aspetto il 9 ottobre a Milano per un confronto stimolante e utile a tutti. Aziende, imprenditori, operatori del settore, enti e istituzioni. Un caro saluto in attesa di incontrarvi. Grazie a tutti! Grazie! Grazie per la visione!